Max AI Ciao ragazzi, questo è il mio primo video sull'intelligenza artificiale. Come sai, io non parlo tedesco. Però in questo video, però in questo video, ho detto alcune cose e ho trovato il modo di comunicare con te in tedesco. IA of Deutsch zu kommunizieren. Ecco come puoi parlare più lingue con l'aiuto dell'IA. Il tuo tempo è prezioso, quindi andiamo direttamente al punto. Cerca nella descrizione qua sotto il link. Clicca e vai su AIGEN. Registrati con i tuoi dati e vai in basso su Video Translate. Carica un video di te stesso seguendo i loro requisiti, quindi scegli la lingua di destinazione. Come puoi vedere, ci sono molte lingue tra cui scegliere. Clicca su Translate this video, attendi qualche minuto e il gioco è fatto. Troverai un link. Se hai trovato utile questo video, clicca sui Mi piace e non dimenticare di iscriverti se vuoi vedere più video come questo.